Dai deserti della Namibia alle vette dell'Esoto, continuate a far crescere l'albero della fede. È la raccomandazione contenuta nel discorso che Papa Francesco ha consegnato ai Vescovi della Conferenza Episcopale Africana in occasione della loro visita ad Limina Apostolorum. Nel testo il Pontefice ricorda le non poche sfide che attendono la Chiesa, la tutela delle famiglie, la custodia della vita, le crisi, delle vocazioni, ma invita i presuli a non perdere il coraggio e l'entusiasmo nell'annunciare l'unica vera ricchezza. L'amore di Dio